Buongiorno a tutti da Immobiliare Porto Mantovano. Oggi vediamo una bella villa in vendita. Ricordandovi che se dovete vendere o affittare il vostro immobile con la nostra agenzia lo potete fare senza alcun costo di provvigione. Qui vediamo la sala con il cammino Breccia Aurora, è un tipo di marmo molto raro. Un ampio disimpegno conduce alla cucina e a un ripostiglio, comodo ripostiglio sotto scala. La cucina è abitabile, assolutamente abitabile e comunica con il giardino che circonda la casa sui tre lati. La porta è una scorrevole scomparsa, poi un piccolo gradino e c'è un altro disimpegno dove ci potrebbe stare comodamente un altro armadio. Anche in questa zona filtro in cui siamo passati prima ci potrebbe stare un armadio. E il bagno della zona giorno. Una porta collega con il garage che è molto ampio, con basculante in legno, finestrato. E poi adesso passiamo alla zona notte. Qui abbiamo una bellissima scala in rosso Verona, marmo rosso Verona. Salendo le scale, questo appunto è il disimpegno notte che collega tutte le stanze e il bagno. Sulla destra un ampio bagno con doccia. E qui sulla destra una prima camera matrimoniale con terrazzo. Come vedete la zona è una bellissima zona circondata da ville. Poi in descrizione troverete il link dell'annuncio dove potrete vedere la descrizione completa e le foto. Servizio fotografico. Qui abbiamo una stanza da letto matrimoniale, anche questa di ampia metratura, con balcone. E uno studio o mezza stanza che completa la zona notte.